Fin dalla nascita, i bambini del Nord ascoltano racconti sulla fine del mondo. Ed è soltanto il potere esercitato su Midgard, da Odino e dalle sue pietre runiche, che tiene lontano Ragnarok. Gente di Wotankheld, siamo qui riuniti oggi per onorare uno di noi, più giovane di ogni altro a cui sia stato tributato un tale onore. È saggio e forte ben oltre la sua età. Ha portato gli scudi nelle battaglie di Heindal e Aderby e ha dato il suo aiuto nella fortificazione di questo villaggio, dopo che oscuri racconti sono giunti a noi dalle terre del Nord. Solleva la tua spada e prendi su di te i gloriosi doveri della lama di Odino. Ok, dopo una delle introduzioni più pallose della storia e uno dei doppiaggi più scandalosi di sempre, da far sanguinare la tromba di ostacchio come diamine si chiama, abbiamo di fronte però un gioco del 2001, quello non scordiamoci, se il doppiaggio è così e sarebbe sempre stato così, l'aspetto grafico invece è qualcosa di dipendente assolutamente del tempo, quindi non si può avere un pregiudizio, guarda che schifo di mani, guarda che schifo di texture con un gioco del 2001, questo ovviamente non si può dire. in realtà è un gioco che ha ispirato passione e bisogni e forze e sentimenti, o almeno è quello che si evince dalla storia, ma di questo non sono sicuro, quindi bisognerà approfondire, soprattutto non andare al... saluti, ecco qua, si, si, con control forse, fiappa la sbomb, ecco baby, esattamente, rude così, no, lui ha la spada, il potere, non voglio ascoltarti, non voglio ascoltarti neanche per un secondo, mi fai sanguinare lì, allora, apri la porta, si entra, si può entrare in questo posto, possiamo armarci, un'ascia, un'ascia, una spada, bene, è giù, è anche uno scudo, eventualmente, posso portare un po' di armi, spacca tutto, chiuso così perché ho questo attacco, questa impulsività forte, sentiamo questo, madonna mia, ragazzi, qua, fatemi, fatemi schippare questi dialoghi, mi prego, mi prego, non è che un insieme di parole, ma la tradizione dice che prima di diventare un uomo, devo affrontare te, ecco, bando alle ciance, quindi, avanti, questa è la vera prova a sconfiggermi in combattimento e avrà assicurato il posto tra noi guerrieri, difenditi, vai, oh, boom, spacca il culo, così, ok, sei caduto come una merda, mi hai già insegnato tutto, soprattutto non insegnarmi a recitare, ci aprono nelle porte qualche, messaggeri sulla spiaggia, ha messo sotto assedio Copperud e la loro pietra l'unica è stata attaccata, ci pensiamo noi a recuperarla e a difenderla in fase preliminare, ma non c'è qualche modo per schippare questi, queste animazioni, questi dialoghi, soprattutto, eh, perché le animazioni sono quelle del tempo, però, come dire, la prestanza oratoria non è un qualcosa che può essere accurata, soprattutto se è così decadente. L'agente di Copperud è stato un valido alleato per molte generazioni, figlio mio, e la loro pietra l'unica si staglia come un orgoglioso faro per le navi provenienti dal mare. Kondrak deve essere davvero pazzo per mettere sotto assedio il loro palazzo, Odino stesso arriverà da Asgard e pulirà il traditore per la sua insolenza. Preparati a rendere visita ad El. Dio, ragazzi. 40 uomini. Ti prego, fatemi. Me ne basta uno per ucciderti. Me stesso. Fatemi, fatemi schippare questi dialoghi, vi prego. Ve lo chiedo per favore. L'imbrogliore intrappolato nelle profondità, invoco i suoi poteri, li invoco dalle viscere dalla terra di Micarta, e offro costoro i suoi nemici, alla sua immortale fama di potere e alla sua insaziabile sete di vendetta. Brucia! Brucia! Ragnar, svegliati, guerriero. Il tempo della tua morte non è ancora giunto. Minchia, mi ha svegliato il dio in persona, dalle profondità delle acque. Sono tutti morti, ma il mio tempo non è ancora giunto. Come potrebbe dire uno dei tizi. Adesso risolevo le sorti della battaglia. E ci sono dei granchi subito giganteschi che mi attaccano furiosamente. Non ho capito se si sta nascondendo nel guscio o se l'ho fatto fuori. Ok, siamo giunti in un qualche tipo di... Isola Sperduta. Ah, ci sono anche gli achievement di Steam. Benissimo. A parte questo, il gioco comunque ha il suo perché. Non bisogna avere un pregiudizio generico sul gioco, sulla base del doppiaggio che evidentemente è il peggio del peggio. Forse è ancora peggio addirittura di Jericho se pensate che livelli abbiamo raggiunto in quel gioco. Però, privandosi di questo ostacolo, magari mettendolo in inglese se è possibile su Steam e devo ancora vedere. Se è possibile lo metto così evito di togliermi le cuffie ogni qual volta c'è un dialogo. Per il resto è un gioco che ha ispirato tanti altri giochi in seguito. Vi devo abbandonare per quest'oggi perché devo nutrirmi anche io. Ho bisogno di nutrirmi per sopravvivere. Se siete nostalgici mi raccomando è un gioco che ha comunque il suo perché. Mettetelo in inglese però. È il primo passo per per godere e per non lasciarlo scivolare tra le mani. Saluti. e... e... grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.